Ha suonato alla porta della sua ex compagna fingendosi un corriere col pretesto di doverle consegnare un pacco e poterla così incontrare. E' accaduto venerdì mattina alla terza, la vittima, riconosciuta la voce dell'uomo, si sarebbe ben guardata ad aprire la porta di casa, scatenando nell'ex una violenta reazione, tant'è che avrebbe continuato ininterrottamente a suonare il campanello e a battere violentemente con i pugni sulla porta, intimando la donna di aprire. I carabinieri immediatamente intervenuti sul posto a seguito di richiesta telefonica della vittima hanno sorpreso l'uomo, un 38enne di Massafra, ancora appostato in prossimità della porta d'ingresso dell'abitazione. Raccolti e valutati tutti gli elementi investigativi del caso, lo hanno arrestato per atti persecutori e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L'uomo, non avendo accettato la conclusione della relazione con la vittima, da alcuni mesi avrebbe messo in atto una serie di condotte moleste e vessatorie nei suoi confronti, culminate nella vicenda che si è consumata a venerdì mattina presso l'appartamento della donna. L'eventuale responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo fino ad allora la sua presunzione di innocenza.